Chi segnala o comunque la visione non è sicuramente delle migliori, è un vicolo anche bello che collega il viale dei Matiri con via Jacopo da Ponte. Noi contiamo, non dico per quest'anno, ma tra quest'anno e gli inizi e l'anno prossimo di poter intervenire su quella via. Quella via è vicolo 20 settembre, uno degli scorci più suggestivi di Bassano e così parlava nel nostro OTG del 6 febbraio 2022 l'assessore Andrea Zonta. Sono passati quasi tre anni e non si è mossa letteralmente una pietra, anzi la situazione è peggiorata, come ci segnala il signor Sergio Stevan che si fa portavoce anche di altri residenti. Il problema è di all'abilità dell'asfalto che si rompe tutto e nessuno mette mai mano, è anni che parliamo, è anni che parliamo con tutti i sindaci che vengono, però tutti dicono di sì ma nessuno fa niente. Marciapiede, luci tutte che sono nere quasi, tombini che trasformano acqua perché non vengono puliti, sì che questo è il grosso problema insomma. Ci sono persone disabili, compreso per esempio mia moglie che è l'80% invalida, c'è una signora che invalida il 100%. Buche e sconnessioni sono sempre più evidenti e pericolose ma c'è anche un problema di decoro nei confronti dei turisti che da qui passano per arrivare in centro. Non so che biglietto da visita che può essere adesso quando passano di qua, perché vedo che guardano Tino, guardano qua, guardano là, guardano l'arco, insomma tutto un po' questi qua sono piccoli problemi dove sarebbe bello che io sono nato qua e mi piacerebbe che fosse tenuto un po' più su.